La app Muoversi in Toscana cambia veste e diventa ancora più a misura di pendolari turisti e viaggiatori per aiutarli nella ricerca di percorsi e tragitti ad hoc e di mezzi pubblici con particolare attenzione all'integrazione di bus, treni e traghetti monitorati in tempo reale. L'app è stata presentata nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze dall'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, è scaricabile gratuitamente e permette di ottenere le informazioni richieste con il minimo numero di operazioni. Il salto di qualità sta nel fatto che oltre a poter pianificare il viaggio origine e destinazione sapendo quali sono i mezzi che devono essere presi, quali sono magari i tratti a piedi che devono essere percorsi, attraverso questa nuova impostazione si ha la possibilità di avere anche in tempo reale quelle che sono le modifiche della programmazione dei treni per esempio oppure dei ritardi che subisce un traghetto oppure un bus. Le principali funzionalità della app sono accessibili senza registrazione che è invece richiesta per le funzionalità avanzate come la memorizzazione delle preferenze. Con la nuova app è possibile poi interagire con l'ecosistema digitale di muoversi in Toscana in costante crescita in termini di interazione sui social. Grazie. 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 Grazie.